C'è un proverbio molto semplice, molto popolare, che dice che tra dire il fare c'è di mezzo il mare. L'Italia è molto zeppa di persone che dicono, è zeppa di persone che dicono. E poi quando si tratta di fare, ma cincischiano e cincischiano molto. Io invece faccio parte della sparuta schiera di quelle persone che dicono e che vogliono fare, perché sanno fare. C'è qualche un altro di questa sparuta schiera di quelli che non solo dicono, ma sanno e vogliono fare, che vuole stabilire un contatto con il sottoscritto? Io sono qui, sarei lieto di sentire qualcuno che ha voglia di fare, oltre che di parlare. Grazie. 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 Grazie.